Quando si è trovato quel recinto che è tuttora circondato da un nastro e che lì hanno detto che era stata trovata, quello è stato il punto dove io ho messo la mia rosa, periodicamente, io dico fino a due mesi fa o forse tre. Due mesi o giù di lì o su di lì fa è venuto fuori, perché tutti quelli che hanno letto Il Fandone possono confrontarlo, che non era quello il punto preciso dove lei è stata trovata, ma una decina di metri più avanti verso la Scarpata. E verso la Scarpata, dieci metri più avanti, dove finisce la rete, c'è un solo punto dove io ho lasciato da allora le rose. Ecco risolto il mistero emerso nella scorsa puntata di Ring durante l'approfondimento sul caso Liliana Resinovic. Durante la trasmissione il giornalista del Piccolo, Giampaolo Sarti, aveva raccontato di aver trovato, durante una passeggiata nel luogo tre settimane fa, un fiore posizionato nel punto dove è stato trovato il cadavere di Liliana, nella sua posizione originaria, prima di essere spostato. Il fiore si è scoperto essere proprio dell'amico della 63enne Claudio Sterpin. Come faceva l'ex bodista triestino a sapere il punto preciso dove si trovava il corpo di Liliana, prima di essere riposizionato? Informazione questa riservata a pochi. Appena sono venuto a conoscenza di questo dettaglio tramite varie fonti che si occupano del caso, ho cominciato a portare i miei fiori in quel luogo, ha chiarito Sterpin ai microfoni di Telequattro. La prima rosa che ho portato là l'ho tirata giù da dove era fino adesso e l'ho messa là quando io ho saputo che quello era il punto preciso. Dopodiché ne avrò messo una decina, io dico, decine no, forse una mezza dozzina. Cioè tutte le volte che sono andato là con un cameraman e un giornalista a fare un servizio in quel posto, io ho portato una rosa, tutte le volte o quasi. Claudio ha sempre portato una rosa nel parco di San Giovanni da quando è venuta a mancare Liliana, la rosa che era abituato a darle di persona ogni volta che si vedevano. Per me la prima posizione era appena entrati dalla via Weiss, come si chiama, i primissimi due o tre pini o cipressi, quello che sono insomma gli alberi, avevano sul tronco le prime settimane dopo il suo ritrovamento, aveva sul tronco la mia rosa che lei trovava quando veniva a trovarmi ad aspettarla a casa mia, di solito, cioè i mesi precedenti.